È stato un evento fortemente voluto dall'NM perché crediamo fermamente nell'importanza di dialogare intorno a queste tematiche estremamente attuali e importanti, quindi insieme agli avvocati abbiamo voluto i magistrati, appunto i giornalisti, esperti in psicologia forense, accademici, perché ognuno di loro offrisse il proprio contributo in ordine a questa tematica dove sono fondamentali scienza e coscienza, quindi non solo una conoscenza tecnica approfondita, settoriale, delle norme sostanziali, processuali, delle leggi scientifiche di copertura che ogni giorno utilizziamo, ma anche un aspetto empatico che è fortemente importante quando si accoglie la persona vulnerabile, sia essa minore o la donna magari vittima di maltrattamenti, violenze sessuali. L'accoglienza è importante quando si approccia la persona vulnerabile e quindi è fondamentale il linguaggio verbale e non verbale, l'aspetto valutativo e comunicativo, anche e soprattutto quando poi si fa cronaca giudiziare rispetto a questi fenomeni, ecco perché è stato fondamentale il contributo e il coinvolgimento dei giornalisti. Credo sia riuscito per la capacità di tutti i relatori di entrare nello spirito di questo percorso empatico che ci mette allo specchio e ci fa anche riflettere sui nostri limiti, ci fa mettere in discussione le nostre certezze. Questo da magistrati non è spesso un'operazione comune che si fa, invece oggi tutti sono stati portatori di grande umiltà e grande voglia di compenetrarsi nelle ragioni dell'altro, che poi forse è la sintesi di questa giornata. È stato un confronto necessario, il tema dell'ascolto della vittima vulnerabile richiama in campo tantissime conoscenze e il magistrato che non può chiudersi nella sua soltanto conoscenza tecnico-giuridica ma deve assolutamente avvicinarsi ad altre conoscenze, farsi accompagnare ad altre conoscenze, altrimenti non sarà in grado veramente di entrare in empatia con la persona offesa dei reati di codice rosso, la persona offesa vulnerabile in generale. È stato infatti, come ho detto io stasera, un evento di formazione collettiva. Non c'è stato qualcuno, qualche specialità, il giudice che ha formato l'avvocato, l'avvocato che ha formato lo psicologico, ma ci proviamo a formarci tutti assieme nella consapevolezza che questo tipo di materia va trattato con le conoscenze di più professionalità e di più scienze.